Ciao fragolini e ciao fragoline e benvenuti in questo breve video perché Giada voleva fare a tutti voi gli auguri di buon... del ragazzo! Sì e poi altri auguri dobbiamo fare oggi gli auguri di buon compleanno a chi? A Giulia! Sì che oggi fa il compleanno tanti auguri Giulia da parte nostra è una nostra nuova iscritta ed è la cugina di un'altra nostra iscritta abbiamo due cuginette sì sì ok ti facciamo tanti auguri ti auguriamo di trascorrere una bella giornata e se volete anche voi gli auguri nel nostro canale ditecelo iscrivetevi al canale e mettete un bel like ok? Mettete un bel like! Ciao! Ciao! Saluta tutti i nostri amici con un bacino Ciao! Ciao! Ciao!